Pietro ASMR Salve, salve Ne do il benvenuto all'interno della nostra grattineria Billy Billy, sì Immagino possa essere emozionato E certo, è emozionante entrare da noi per la prima volta, eh Voglio essere del tutto onesto Anche perché questa idea innovativa Che sta piacendo a chiunque riuscire a venire qua È quasi un'impresa perché c'è una lista di attesa enorme La nostra fondatrice infatti purtroppo ha dovuto imporre dei tempi lunghi Perché c'è tantissima gente, è inutile Quindi si è creata una lista di attesa Pensa bene per quanta gente si prenota Sono contento che è arrivato il suo turno Mi fa molto piacere Allora, io direi subito che possiamo cominciare Con il trattamento dalle scelte Adesso le volevo chiedere magari come ci ha incontrato Come ci ha scoperto, se tramite i giornali Perché sono usciti molti articoli a partire dalle Corriere di Roma Virgeli, il messaggero Il Corriere di Roma appunto un'altra volta Il fatto quotidiano insomma Chiunque ha parlato di noi Si è parlato anche in radio Quindi magari da lì Oppure ci ha visto su TikTok Su Instagram Tramite TikTok, perfetto Abbiamo puntato molto sulla campagna di TikTok Ed ora stiamo ampliando anche le collaborazioni Perché non so se lei l'ha capito Ma quello che vogliamo noi offrire come start-up Come idea innovativa Perché la prima gratineria in Italia Così sono i titoli riportati dai giornali Che è un'idea innovativa che ha spopolato appunto E che adesso chiunque ci sta richiedendo un trattamento E' quello di proporre anche un'esperienza SMR Autonomous Sensory American Response Non so se lei conosce l'acronimo Segue i video SMR Quelli per rilassare Esatto Ah lei li segue Perfetto Allora ecco perché ho voluto anche venire a provare l'esperienza Poi un'altra idea alla base È quello di togliere il lavoro ai amici Perché si chiede sempre All'amica All'amico Ti prego fammi dei grattini Ti prego Le amano chiunque Io stesso le chiedevo tanto È ad un'amica di mia madre che era bravissima E chiedevo sempre Ti prego fammi i grattini Ora c'è la possibilità di andare da esperti Quali noi di Grattineria Pili Pili E farseli fare Ovviamente c'è il pagamento dietro Però è una prestazione nuova Innovativa E non c'è più bisogno di sfruttare gli amici Può venire quando le pare Quando più le piace Anche perché poi qui c'è un'atmosfera diversa Magari da quella di casa Ci appoggiamo a centri di benessere Per il momento siamo a Roma E ci siamo spostati anche a Milano Quindi Piano piano ci allarchiamo Roma Nord Roma Sud E Milano Piano piano ci andiamo ad espandere Sa più o meno Qual è anche Diciamo Il benessere E gli effetti Che portano i grattini Che magari Io lo spiego Ma perché Magari non ci pensa Ma i grattini Aiutano notevolmente Sia il sonno Ma soprattutto A sciogliere i muscoli E a rilassare il nostro corpo Quello è un aspetto molto importante Ci fa Scollegare completamente Dal mondo esterno Ed è una meraviglia Unica Ed è di questo Che noi siamo orgogliosi proprio Ed orgogliosi anche Del fatto che la gente Abbiamo risposto così numerosa Siamo andati vitalissimi Soprattutto anche grazie ovviamente Ai giornali E al TikTok Che ovviamente Ha funzionato come noi speravamo E quindi ora ci appoggiamo Anche ad ASMR Artist Coloro che fanno i video rilassanti Su YouTube Proprio per promuovere Questa nostra esperienza E siamo davvero tanto Tanto orgogliosi Ci fa piacere che insomma Una persona come lei Anche ci abbia trovato Come tutte le altre E oggi deve essere Si deve sentire Importantissima Perché è riuscita Ad arrivare in gradineria Dopo insomma Penso lei abbia aspettato Sui due mesi E già Infatti poi C'è stato un periodo In cui abbiamo chiuso Anche la nostra lista di attesa Quindi Esatto Visto il nostro sito Sul nostro sito Praticamente C'è la lista di attesa Da seguire Ci si deve iscrivere Scegliere il trattamento E via E allora proprio a parlare di questo Vado a controllare un attimo Che trattamento lei ha scelto Mi ricorda il nominativo? Ok Perfetto Ok Un attimo Che la devo trovare Che Sono così lunghi Ok Lei ha il pacchetto intro Perfetto Sì esattamente Sono in 45 minuti 39 euro Qui è un trattamento rilassante Andiamo Con i gradini Da parte Il nostro esperto E la bellezza È proprio L'esperto Oggi sono io Se vogliamo dirlo tutta Ma la bellezza È quello proprio Di sfiorare Leggermente La pelle Non so Il nostro corpo Ci dà i priviti Proprio La pelle tocca E questa è la meraviglia È una meraviglia unica E farselo fare Da esperti Anche diverso Da farselo fare Appunto Magari da amici Perché hanno delle tecniche Un po' diverse Sanno quali sono I giusti movimenti Della mano Da svolgere E quindi provoca Ancora più rilassatezza E benessere Rispetto ai gradini Di nostri amici E aiuta notevolmente Anche nel sonno Esattamente E proprio perché Noi vogliamo creare Un'esperienza completa Adesso le vado a fare La zona trattata E la schiena Le braccia La testa E le mani Trattiamo un po' Il corpo a 360 gradi L'altro pacchetto È quello di un'ora Costa 55 E ovviamente Abbiamo anche 15 minuti aggiuntivi Di una zona Che lei può scegliere In futuro Se le può interessare Lei volevo far sapere Invece Visto che Ci piacerebbe Che lei magari Possa promuovere Anche la nostra iniziativa Del fatto che è possibile Regalare Proprio Le sedute dei grattini Adesso le spiego un po' Abbiamo Il Di blu 55 euro Dove ha una sessione Di grattini Da un'ora Ok Poi abbiamo Grattini Compleanno Molto interessante Sono due sessioni Da 45 minuti Ok Dal valore di 78 euro Lei la paga 75 Poi abbiamo Il pacchetto Gioia Abbiamo una sessione Di grattini Dal valore di 27 euro Una dal valore Di 39 Per il 5% Di sconto Sul prossimo Trattamento E poi Grattini di coppia Molto interessante Dove c'è una sessione Di grattini Da 45 minuti Per due persone Dal valore di 72 euro La paga 73 Quindi 5 euro Di sconto Ma sono carini Anche da poter regalare Magari Quelle persone Che lei sa Possono essere interessate I pacchetti Si possono sfruttare Ovviamente In estate Dal 10 settembre Nella città di Roma A Milano Quindi a parte del 10 settembre Saranno sfruttabili Ok Aspetta qualche giorno In caso Le possa interessare Però intanto Testa lei Per gli altri Mi sembra giusto Mi sembra più che giusto Allora segno Il suo arrivo Ok Allora intanto Le voglio offrire Se mi permette Visto che è un caldo atroce Abbiamo qui I nostri Asciugamani Ok Sono asciugamani freddi Da frigorifero Se le può mettere in viso Così intanto Si raffredda un attimo Prima di Di cominciare Con il trattamento Eh Sono fantastici Guardi Mi do un gusto Soltanto Passarci la mano sopra Perché Anche questa è un'idea Che abbiamo avuto Proprio Mi sembra Giusto Concolare il cliente A 360 gradi Quindi Magari chi si lamenta Del prezzo Deve considerare Che siamo in un centro Benessere I massaggi costano E questa esperienza Poi è diversa Da tutte le altre È una start up Ha bisogno Di investimento Quindi è anche giusto Che ci siano Dei prezzi Abbastanza elevate Anche perché le persone Che fanno questo lavoro Farlo da noi Guardi Ci metto la mano sul fuoco Allora Con la pizza Come se fosse In prima classe D'aere Ecco qua Prego Se le passi Nel volto Esattamente In volto Prego Prego Ok Le risistemo Per dopo Poi se ne vuole un altro Ma lo dice Non esiti A dirmelo Non si faccia Problemi Va bene Per farla entrare Poi nel mood A dirilassatezza Le vorrei offrire No chiedere Una tisana Oppure tranquillamente Una camomilla Quella che desidera Sono infusi Freddi Ok Vi faccio vedere La tazza Guardi che bella Sono infusi Freddi Quindi Perché è caldo Non ci piace Offrire cose calde L'inverno L'estate Un po' meno E Sentirà lei La bontà Ma soprattutto Come la accompagnerà In questo percorso Che adesso Inizieremo a prendere Andola Perfetto Le preparo adesso Ovviamente L'infuso Lei mi deve dire Quello che più preferisce Aspetti che L'appoggio qua Abbiamo Una selezione Le nostre Tisane Camomille Deve vivere Questa esperienza ASMR A 360 A 60 gradi Allora Eccole qui Tutte quante Nel loro più totale splendore Le posso offrire Questo è un infuso di curcuma Aloe Zenzero È molto interessante Questo è davvero Molto interessante Soprattutto È particolare Perché Non tutti riescono Ad offrirlo E ce n'è stato richiesto Tanto Tant'è che Sono pieno Qui ho Frutti di bosco Dell'angelica Tanto buono Anche frutti di bosco Devo essere sincero È Apprezzato È apprezzato E poi Ovviamente Abbiamo La Tisana No La Camomilla Mi perdoni Ponelli E questa è di Puro Relax Puro Puro Relax Meglio sicuramente Accalmarsi ancora di più Che le posso offrire La Camomilla La Camomilla Mi sembra giusto Allora Metto via Il nostro infusore La scelta di infusi E Vado ad aprire La Camomilla Bolelli Poi hanno fatto Questa qualità Molto più Diciamo Grande Ok Quindi più potente Potremmo dire Rispetto a tutte le altre È un profumo Unico Senta Senta quanto è buono È strepitoso È strepitoso Lo so Allora Mi preparo L'infuso Che è pronto Me lo lascio Così lo posso orseggiare Lo metto qui da una parte Va bene La poso là Guarda che bella Questa cosa Ok E adesso direi Che ci possiamo spostare Nell'altra stanza Così l'intanto sorseggia Mi aspetta che arrivo subito E iniziamo la seduta Ok Intanto Segno l'inizio Ricordiamo 45 minuti Il pagamento è già stato effettuato Perfetto Allora ci spostiamo Nell'altra stanza Se per lei va bene Cominciamo questa esperienza Di grattini Vedrà Che ne rimarrà Insasiata Va bene Prego Si accomodi Da quella parte Esattamente Dritto A sinistra Ok Arrivo subito Adesso io comincerò Dalla schiena Per andare sulla braccia E poi un po' Un po' anche sulla testa E quindi sulla parte superiore Del cranio Se vogliamo dirla In termini eccellenti E allora Mi appresto a cominciare I grattini Ti chiedono di rilassarti Per continuare a sorseggiare La tua Tisana Non pensare a nulla Lasciati Lasciati andare Perché ora Si comincia A rilassare Davvero tanto Lasciati accompagnare Dalla candela A cammino Che è qui Dietro di me È un suono molto leggero Che aiuterà sicuramente A distendere i nervi E ora ti chiedo Di non pensare a nulla Morbido Morbido E cominciamo Questa è l'atmosfera Più rilassante Che si può sapere Ti chiedo Di lasciarti andare Mi raccomando Ecco I grattini Un relax Unico Che non potrai trovare Da nessun'altra parte Se non nella nostra grattina Quindi lasciati andare Lasciati andare Questa parte della schiena Che è essenziale E più rilassante E lasciati andare Mi raccomando Morbido Morbido I grattini Sono l'aspetto più emozionante Del relax ASMR Un'esperienza ASMR A 360 gradi Come può notare Dall'atmosfera E anche dei suoni Quindi Lasciati pure Andare Lasciati Coccolare Da questa meraviglia Bello Bello Molto Impressato Ottimo Così Perfetto Così Ottimo Così Lasciati andare, così, perfetto, lasciati trasportare dai grandini. La nostra glattina è lì, relax, unico nel suo genere, assimila questo sfioramento della pelle, farlo tuo. Ottimo, così. Sfaggio un po' di onde. Rilassati, lasciati andare, rilassati. Ottimo, così. Senti com'è attraverso il brivido dello sfiorare la pelle. è una cosa meravigliosa, è una cosa sublime, è adorabile, è un relax che provoca il rilassamento. Lasciati andare da tutti questi grattini, senti il brivido che sale, senti il brivido che sale. Un brivido unico nel suo genere, senti che relaxa, sentilo come ti attraversa, sentilo. Come ti attraversa. Questo è un relax imunico. Unico che solo dalla grattinieria potrai trovare. Ora voglio passare un po' laterale alle braccia. Questa palida è laterale, nelle braccia. Anche il brivido delle braccia è un ecco. È meraviglioso sulle braccia, lo so. Va bene, posso continuare sulla schiena senza problemi. Immagino possa essere quello che apporti più rilassatezza. Devi scaricare i nervi della colonna vertebrale. Quindi possono magari incentivare questa cosa, anche le ossa un po' meccaniche. che vedrai che potrai muoverti molto meglio dopo questo massaggio, dopo questo trattamento dei grattini. Ecco qua. Questa parte è essenziale. Fattilo anche un po' intorno alle braccia, vedi? Può risultare sempre molto rilassante. Lasciati andare. Fatti accompagnare dal suo mondo lo scoppiattio della candela nel sottofondo. Chiudi gli occhi, non pensare a nulla. Senti le mie dita che ti sfiorano. Ti mandano in un altro universo da relax che ti comporta. Sentila. Senti che bello. Una sensazione che non hai mai provato. Che io sono contento di poterti offrire. Senti. Così. Questa parte anche della parte superiore della schiena. Senti. Ecco. Sentile. Che relax. Senti che bello. Sul collo. Sul collo possono risultare molto più rilassanti che da altre parti. Senti che bello. Senti che bello. Senti che bello. Senti che bello. Bello. Senti che bello. itu. che ti circolano, che ti trapassa, lasciati andare questo brivido unico nel suo cielo, un brivido esemplare, che rilassa, senti che rilassa. Lasciati attraversare un relax, unico nel suo cielo. E poi, anche se non si hanno le unghie molto lunghe, la tecnica, come senti, funziona ugualmente. L'importante sono i movimenti che uno va a portare. Relax. 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 Guarda che bello. Senti che... Che bel rivido che sale. Hai la pelle d'oca, lo vedo. Ancora sul collo. Sul collo. L'occhio. 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 Lango l'occhio. Cayo l'occhio. L'occhio. Senti com'è? Senti com'è? Ti ho rilassato ora, ti ho rinfrescato un po' la schiena ed ora... un altro panno gelato per concludere il trattamento. Ecco qua... Ora, bello rinfrescato, te lo appoggio sul collo. E adesso sei una persona nuova, te lo garantisco. Senti? Ora più rigenerato, sciolto. Com'è stato questo trattamento? È una pura meraviglia. È proprio sciolto e rilassato, come dovrebbe essere dopo questo trattamento. È bello anche rinfrescato, eh? Sì, con la parte fredda finale che piace a tutti. Un po' una sorpresa. Prego, la accompagno nuovamente alla reception. Va bene? Può metto a posto dopo. Prego, andiamo pure. Con calma la vedo un po'... Eh? Eh? Non si addormenti, non cada in giro, eh? Perché magari le prendete e addormentarsi in giro sarebbe un problema quello. Però vorrei dire che ha funzionato bene. Andiamo, prego. Ecco. E rieccoci qui. Io mi auguro che lei si possa essere trovato bene in questo anche ambiente il più rilassante possibile. E reso il più rilassante possibile. Perché ovviamente questa è un'esperienza a 360 gradi sull'SMR e su Relax. Quindi deve essersi sentito per forza a casa, altrimenti mi offendo. Mi fa piacere. Se desidera quindi comprare regali per amici o comporre un altro trattamento. Il link, le ricordo. E lei si mette di nuovo in lista d'attesa. Sceglie il trattamento. Oppure può comprare semplicemente il pacchetto regalo. E anche lì, ovviamente poi c'è comunque da seguire un'attesa. È ovviamente tutto relativo. C'è prima o poi lo fanno tutti. Non è adesso, vabbè. Non è l'attesa per Hermes, per la Birkin o la Kelly, ecco. Va bene? Allora, si è trovato bene? Mi fa piacere. La vedo un po' uno zombie. Tipo... Quindi ha funzionato. Grattineria Pidi Pidi, quando vuole, l'aspetta nuovamente. E aspetto numerosi anche i suoi conoscenti. Chiunque voglia, perché è un'esperienza da fare almeno una volta. Così i nostri amici saranno da una parte e si rilassano loro riposando le mani. E noi invece ci divertiamo con questa nuova start-up. E lei si rilassa, come non male. Va bene? L'aspettiamo nuovamente in Grattineria, allora. Arrivederci. Grazie mille per averci scelto. Arrivederci. Arrivederci. Vederci. Ok. Vediamo il prossimo sulla lista. vediamo.